Bravo, bravo, vi siete immortalato, grazie, grazie, mi fare troppo onore, orre che ci siamo alquanto ristorati, pensiamo ai nostri affari, io promerei che mentre sto vegliando sull'equipaggio e sulle prime donne, andaste a fare un giro pel paese, onde scoprire un luogo che ci possa servire da teatro, io qui vi aspetto, andate, esaminate, lasciate fare a noi, non dubitate.